Alla fine scappai. Mi trovarono al collo una medaglietta con le iniziali RS, che ancora adesso non so che cosa vogliano dire. Poi due coniugi mi pressero con loro e mi fecero lavorare come schiava in un negozio di bottoni, fino a 15 anni. Alla fine scappai e nessuno mi cerco più, perché nessuno mi voleva bene. Adesso sono una donna che vive di corsa, molto di corsa. Frequento chi beve, frequento la vita, frequento la droga. Però, se riuscissi a sapere dov'è la mia vera madre, smetterei tutto e la raggiungerei, magari camminando sulle ginocchia. Chi ce l'ha non sa che la madre non è una persona come le altre. Se trovassi la mia, non la graffierei perché mi ha lasciato, ma le affonderei la bocca nell'orecchio e le direi «Bentornata, mamma!» Commento Esiste un amore ben più grande dell'amore materno, l'amore verso cui ognuno di noi è proiettato. Rispetto all'amore che una donna può dare a creature che non sono le sue, l'amore materno è un sentimento egoistico. Rispetto all'amore delle sue, le direi e le direi «Bentornata, mamma!» Bisogna